L'abbiamo visto ieri, abbiamo trasmesso la conferenza stampa integrale dei sindaci 15 o 16 contrari al PAL, contrarietà che però è più che consultiva visto che il piano comunque c'è. Qual è stata invece la posizione del comune di grado? Dunque, come tu giustamente hai ricordato, l'assemblea dei sindaci del mandamento dell'Isontino per l'approvazione o no del piano attuativo locale, il PAL ha procurato una contrarietà, cioè è stato bocciato. 16 comuni hanno detto di no, tra cui anche alcuni comuni della sinistra, con l'esclusione di quelli del PD che hanno votato puramente in favore del proprio partito, cioè perché il PAL andasse avanti, e quelli del centro-destra. L'originale è la posizione del sindaco di Palmanova, che dice sì, però c'è un certo cosa da fare, insomma un colpo al cerchio e un colpo alla botta. Il sindaco di Palmanova poteva risparmiarsi un'uscita infelice che oggi è stata pubblicata dai colleghi del Messaggero Veneto dove alla fine in buona sostanza ha dato degli inutili a tutti i sindaci che hanno voluto partecipare a esprimere un loro diritto democratico, cioè quello di votare o non votare in rappresentanza dei propri cittadini, perché non dimentichiamo che un sindaco non è che è lì in vacanza, in gita per fare qualcosa, è lì a rappresentare la sua comunità. Alla fine tutto questo, proprio perché si trattava di una situazione consultiva, ha avuto valore zero. È un po' come il ragazzino che va sul campeto di calcio a giocare con gli amici, il pallone è suo e finché lo fanno giocare gioca, ma al momento in cui non lo mettono in squadra, piglia il pallone e non si gioca più. Il comportamento del comune di Grado, ambiguo. Ambiguo perché io oggi ero la conferenza stampa dei sindaci che hanno voluto manifestare, domani sarà su tutti i giornali, il giorno 12 sarà su tutti i quotidiani, io ho pubblicato in anteprima sul mio spazio e è successo che il sindaco di Grado, che nell'ultimo consiglio di comunale, il comunale aveva tuonato contro il direttore Poggiana che non lo voleva ricevere, che insomma lo rimbalzava, alla fine aveva manifestato che avrebbe votato contro il piano attuativo locale proprio per dimostrare la sua contrarietà e difendere la sanità del nostro territorio, della nostra isola. Invece tutto questo non è avvenuto, il sindaco si è preso la bicicletta, è andato a farsi un giro in Austria con tutto il suo carrozzone di adepti e ha mandato l'assessore alla sanità Claudio Gaddi a presenziare, a rappresentare Grado in questa assemblea. Alla fine della fiera il nostro buon Claudio Gaddi ha fatto il democristiano, cioè non ha votato contro per paura di chissà quali ritorsioni da parte della sinistra, sinistra che comanda qui sull'isola di Grado, sul gruppo dei civici, e non ha votato neanche a favore perché non poteva proprio farla così sporca. Quindi si è astenuto facendo la figura di quello che se stava a casa, se fosse stato a casa avrebbe fatto meglio.